Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Michele Piano, il 50enne fermato la sera del 3 febbraio scorso dalla procura di Foggia e dei Carabinieri, è ritenuto autore dell'omicidio del cugino Michele Placentino, di 34 anni, ucciso venerdì sera a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Nelle scorse ore c'è stata l'udienza di convalida del fermo, Piano ha preferito non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, che ha poi convalidato il fermo. Il mio assistito ha dichiarato illegale del presunto omicida, si dichiara innocente ed estraneo i fatti, ma abbiamo preferito avalerci della facoltà di non rispondere alle domande per leggere bene le carte. Fin da quando è stato fermato il mio assistito ha ribadito la sua innocenza anche al pubblico ministero. Placentino è stato ucciso con due colpi di pistola, una scacciacani modificata, trovata dai Carabinieri in una siepe nei pressi dell'abitazione dove è avvenuto il delitto. Sull'arma saranno svolti accertamenti balistici. Alla base dell'omicidio ci sarebbe un litigio tra i due per causi ancora in fase di accertamento, che sarebbe avvenuto nell'abitazione del fermato.